Salusti, prego, prego, Salusti, poi De Magistris e Corsetto, vai. Chi è che non vorrebbe un intervento politico o addirittura militare dell'ONU? Chiunque, ma è impossibile perché la Russia e la Cina hanno il potere di veto, quindi togliamoci dalla testa che sia possibile un intervento dell'ONU. E quindi quella che ho appena sentito non è un'opzione nelle nostre disponibilità. Dopodiché a me sembra, Cremaschi, Castellini, sembra di vedere un film che ho già visto di recente con i Novax. In televisione andavano persone, anche importanti, che dicevano attenzione, io non sono Novax, però non mi vaccino. E invito gli italiani a non vaccinarsi perché fa male vaccinarsi. Cioè è una grande ipocrisia. Qual è l'ipocrisia che sto vedendo in questi errori? È che noi non siamo equidistanti. La Russia è il cattivo e l'Ucraina sono quelli buoni. Però non diamo le armi all'Ucraina. Perché non vogliamo fare la terza guerra mondiale. Dare le armi all'Ucraina non significa soltanto dare il mitra. Non significa dare soltanto il mitra a quella professoressa che abbiamo visto, che tanto lei sta lì col mitra o senza mitra, con un coltello, non andrà mai via perché lei non può impedire a un popolo di resistere a un'invasione. Quindi non andrà via. Il popolo può resistere in tanti modi. Le armi, sì, può resistere, certo, appunto, resiste, resisterà. Le armi sono quelle per abbattere i missili russi, le armi importanti, sono quelle per abbattere i missili russi e per abbattere gli aeri russi. Cioè per provare a limitare i danni di questi disgraziati. Però se chi è contrario all'aiuto materiale all'Ucraina non mi dica che è equidistante. Perché fa un regalo a Putin gigantesco. De Magistris e Crosetto.